Dottoressa, poco fa con il Presidente riflettevamo sull'importanza del dialogo tra professionisti che è promossa attraverso un evento come quello di oggi. Sì, assolutamente. Nel senso che nel momento in cui operiamo all'interno dei tribunali ci sono diversi professionisti che agiscono tutti in funzione della tutela di una persona offesa e quindi in questa tutela entrano in gioco componenti psicologiche, sociali, ma anche chiaramente del diritto e il lavoro fatto in gruppo permette veramente di poter svolgere questa tutela al meglio nei confronti della persona offesa. Nel corso del suo intervento ha riflettuto criticamente sia sull'assenza di informazione adeguata sia sull'evoluzione della normativa? Sì, devo dire che purtroppo non sono solamente io a ritenerlo, ma gli studi dimostrano che manca molto spesso una formazione specifica nell'ambito della psicologia forense per gli psicologi che operano all'interno dei tribunali. Spesso questo capita, e questo lo posso dire per mia esperienza, anche nel momento in cui vengono chiamati magari dagli avvocati degli psicologi che per carità conoscono, con cui c'è un rapporto di fiducia e quello è importante, ma che non sono formati nell'ambito giuridico e senza quella formazione c'è un enorme rischio, dimostrano gli studi, di svolgere degli errori che poi avranno delle conseguenze nella salute, nella vita di singoli e di gruppi familiari. Ecco, basandosi sulla sua esperienza professionale, c'è stato un passaggio dell'intervento in cui ha fatto riferimento al fatto che le donne, ci sono casi in cui hanno paura a denunciare e specie in presenza di certe condizioni, quali? La difficoltà a denunciare deriva molto spesso dalla percezione che hanno di restare sole dopo la denuncia. Questo è in gran parte in realtà dovuto ai mass media, perché inevitabilmente si parla dei fatti di cronaca, quindi delle denunce andate poi magari a finire male. Non si parla dei casi di successo, invece dove la persona offesa, rivolgendosi alle autorità competenti, viene tutelata. E questo è importantissimo, perché senza quel passo, che seppur chiede coraggio della denuncia, non c'è tutela.